cigno supremo muktananda 1908 1982 maestro di siddha yoga originario dell'india orientale a 18 anni inizia a peregrinare da maestro a maestro dal 1947 segue gli insegnamenti di nityananda e nel 1962 ne prende il posto alla guida del gurudev ashram di bombay che muktananda trasforma in organizzazione internazionale chiamata siddha yoga dhamma questa avrà grande successo negli stati uniti anche oggi muktananda è venerato come un santo e gli è attribuito il titolo di parama ansa cigno supremo lo stesso attribuito a yoga nanda il titolo di parama ansa definisce l'individuo che avendo rinunciato ai beni mondani si è rivolto unicamente alla realizzazione della libertà spirituale commento davanti a titoli come cigno supremo appare la differenza tra l'evoluto occidentale e l'evoluto orientale il primo raggiunge la sua evoluzione attraverso la meditazione che è la non condivisione con altre vite il secondo raggiunge la sua evoluzione attraverso l'azione che è la condivisione con altre vite grazie a tutti